Per le nostre esperienze, oggi sono in rotto e cerone, poi parlerò da qui. Qui si sono abbinati due e tratta perché questa stazione è molto particolare. 1, 2, 3, 4, 5 colori. Penso, mi auguro che non sia in servizio perché la metracciscia ha bisogno di questi sportelli. Perché è automatica, l'automatica c'è. 3, 7, 14. Siamo riusciti su WhatsApp con nuove esperienze, su Instagram con esperienze nuove. Tra le altre locali su YouTube sono Basket Tennis e La Lattina. Non ha senso questa pazienza. Non ha senso. Come pensi da dietro? Non vuoi parlare? No, è molto bella. È la prima volta che parlo in diretta. Dopo c'è mezzanino, sì o no? Per il motel. Allora, sarà bella. Allora. Allora, andiamoci a prendere. Vai. Allora. Tutti ce l'abbiamo. Comunque il ponte stesso lo vedrete nell'altro video nell'altra direzione a Montecampa Tripantano. facciamo, rigiriamo un attimo e noi ci vediamo alla prossima. No, no, no. No, no. La stazione in direzione a Montecampa. No, no. No, no. Allora, ti prendo una pronta di colpo. Non ci vediamo con il mio cammino. Non ci vediamo.